Il web brulica di presunte soluzioni definitive, rimedi miracolosi e altri prodotti o servizi che promettono di tutto. Ma non ci sono solo miraggi per chi sogna di diventare ricco lavorando 5 minuti al giorno. Esistono anche strumenti seri per chi fa business online che si basano proprio sui dati e possono aiutare imprenditori e liberi professionisti a farsi un'idea più precisa del proprio target di riferimento. Scopriamo allora quali sono i tre tools gratuiti che puoi iniziare ad usare fin da subito per il tuo business. Oggi più che mai hai bisogno di sapere chi siano davvero i tuoi clienti target. Al contrario di ciò che si pensa, online non c'è posto per tutti e solo chi riesce a mandare il giusto messaggio alle persone giuste ottiene davvero risultati. Per riuscire a farlo oggi hai un'opportunità in più. Infatti puoi usare i dati e in particolare i big data online. I dati per farti un'idea su chi siano i tuoi clienti oggi finalmente sono anche alla tua portata. Infatti puoi usare le funzioni free di alcuni software professionali che ti aiutano a capire come pensano i tuoi clienti, dove sono e quindi come puoi raggiungerli. Esatto! Quando cercano su Google le persone sono finalmente davvero sincere e tu puoi intercettare queste ricerche grazie ai software detti di SEO intelligence, e search engine optimization. Ne esistono moltissimi, noi usiamo soprattutto SEMrush. Ti basta creare l'accamp gratuito e a questo punto cercando nella barra di ricerca i termini relativi al tuo prodotto, servizio, settore scoprirai quanto quelle ricerche sono effettuate ogni mese, ma poi soprattutto quali sono le ricerche correlate, quali altri prodotti, servizi correlati o quali domande le persone hanno in testa quando pensano al tuo prodotto o servizio. Scoprire cosa cercano è il primo passo per entrare nella loro testa, nel loro dialogo mentale, ma da solo non basta. Devi anche capire cosa accende la loro curiosità, a cosa si interessano quando sono online e quindi di cosa puoi parlare tu per essere davvero rilevante per loro. Puoi farlo grazie a un software come Budsumo. Inserisci nella barra di ricerca i termini relativi al tuo prodotto, servizio o settore. Otterrai un elenco di articoli, sono gli articoli che hanno ottenuto più commenti, condivisioni e like nell'ultimo periodo. Sono quindi gli articoli che i tuoi clienti leggono più volentieri. Il prossimo step è utilizzare il software SimilarWeb. Nella barra di ricerca questa volta inserisci un URL. L'URL è di uno dei blog e magazine che sono più rilevanti nel tuo settore. Puoi anche averli trovati proprio grazie a Budsumo. Otterrai una serie di statistiche su quanti utenti visitano questi blog ogni mese e su come ci arrivano. In pochi clic avrai la visione molto più chiara su come si muove online il tuo cliente potenziale. Qualsiasi strategia che non parta proprio dallo studio di questi dati, di queste informazioni e che non le monitori costantemente nel tempo, oggi non può più funzionare. Partire solo dai tuoi dati interni e dalle esperienze passate oggi non basta più. Hai proprio bisogno di ampliare la tua visione. E solitamente chi pianifica le strategie di marketing purtroppo parte dalle proprie opinioni e questi dati non li considera affatto. Tu devi avere al contrario queste informazioni per guidare le tue scelte ed essere sempre in controllo del tuo business. Bene, prova subito questi software e inizia a conoscere meglio i tuoi clienti. Se dovessi avere domande scrivici pure sui nostri social. E ricorda, think big data! Grazie per la visione!